Buon pomeriggio dal provinciale, buon pomeriggio da Trapani-Castrovillari, tutto è quindi pronto per poter far sì che prenda il via la gara. Sul punto di battuta il capitano, l'uomo con maggiore esperienza che è Cosimo Cosenza, classe 87, 36 primavera per lui, chiama lo schema con le due braccia alte a fianco a sé a un compagno che è a Teo, lo scambio tra i due, il cross all'interno dell'area di rigore, va a staccare Palermo, poi la giocata e la gran parata, la gran parata di Enis Yucai, cross di Mauro Bollino, la palla che passa, è delizioso il tocco di prima intenzione di Marco Palermo. Ancora Bollino, lo scambio con Crimi, si va dalla parte opposta dove c'è Matteo Guerriere, attenzione perché la palla può essere corta, bravissimo, Capitan Sabatino a intervenire sull'avversario che è Palma, lo ricaccia in Diero e riporta in avanti i suoi, Sartore il suo cross all'interno dell'area di rigore, la palla è buona, Samachè poi la palla è lì e alla fine Federico Maricosu! La stiamo rivedendo, eccola qui, Sartore che va nell'uno contro uno con l'avversario, il pregevole cross, Samachè va a saltare, pallone che resta e arriva l'anticipo di Federico Maricosu a mettere dentro il gol dell'1-0. Vediamo un po', tutto è pronto per la battuta, il signor Veloci dice che la panchina e poi alla fine parte Mauro Bollino! Il tocco da parte del portiere sulla sassata di Mauro Bollino, deviato sul Paolo. Il centrocampista centrale, Emiliano Pino, salta un avversario, out di destra, va a spingere davanti a sé Mauro Bollino, cerca un compagno, vediamo se Bollino girerà dall'altra parte, no, cerca la porta e c'entra un palo clamoroso! La sventagliata in avanti con il tentativo di Ponte non effettuato per l'intervento da parte di Marco Palermo che cerca poi di far intervenire Mauro Bollino, 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 viene anche, Bum, Bum, Samache! Il 2-0 di Bum, Samache, rivediamola, l'ostinazione di Mauro Bollino, porta via il pallone, Samache, 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 fino a che con la punta del piede sull'uscita del portiere avversario Mette dentro il gol del 2-0! Rientriamo quindi dal provinciale quando è tutto pronto per raccontare i secondi 45 minuti di gioco Il lancio lungo di Sergio Sabatino verso Emiliano Pino L'intervento poi di Bolcano che gira sull'out di destra dove punta l'avversario Mauro Bollino Con il Mancino il tentativo di palla inserita all'interno della metà campo Ma attenzione, Marco Crimi ruba il pallone per Mauro Bollino Bollino, Bollino, Bollino! Della sicurezza, pallone ottimo di Marco Crimi L'uno contro uno di Mauro Bollino, pallone spostato sul Mancino E poi lì nell'angolino dove nessuno può arrivare Nuvolo di giocatori al limite dell'area di rigore del Trapani Cosenza con il suo destro, indirizza all'interno dell'area di rigore e trova il gol Vediamo un po', cerchiamole di rivederla Perché il calcio di punizione comunque è di prima, l'arbitro non aveva alzato il braccio Il tiro da parte di Cosenza, la palla che gira, non c'è l'intervento di nessuno C'è solo la lettura sbagliata da parte di Yucai Finisce in questo istante, il signor Veloci fischia la fine delle ostilità Il Trapani, ripeto, batte il Castrovillari per 3-1